Oltre 160 milioni di euro per quattro progetti strategici e quanto dessina il masterplan della regione a interventi che interesseranno il comune di Teramo. Quello di maggior interesse per l'amministrazione teramana è il recupero dell'ex manicomio, struttura in degrado di proprietà della ASL ma che occupa una porzione importante del centro storico. Il masterplan dell'Abruzzo premia più di tutti e più di tutte la città di Teramo, in particolare l'opera luce faro del manicomio di Teramo, l'opera riguardante lo zoo profilattico, l'opera riguardante il quarto lotto della Teramo Mare, l'opera riguardante anche se il comune mi darà consenso la funiculare, funivia, Teramo, Università di Teramo ma solo se il sindaco mi dice di sì. E poi c'è il potente intervento in Valfino, nella città territorio Valfino, poi sono interventi riguardanti Civitella del Tronto, interventi significativi riguardanti Mosciano, Giulianova. Abbiamo messo in campo un intervento concernente i depuratori e il sistema idrico che non si sono mai visti prima, 33 milioni di euro in corso di appalto attraverso il consorzio che gestisce il ciclo idrico integrato, ma fondi riguardanti anche i depuratori. Ecco, la quantità di investimenti che ha riguardato Teramo è esattamente, come si può dire, da rapporto proporzionalmente inverso rispetto al ruolo che oggi ha la politica della città di Teramo all'interno della giunta regionale. Sembra quasi una eterogenesi dei fini o un'ironia del destino. Quando Teramo perde il suo ruolo politico nella regione, la regione fa tutto quello che serviva a Teramo.